Se volete visitare siamo fino al 18 nella sala del 318 di Palazzo Perciò arrivando a questo punto non ho altro da aggiungere Aspettiamo che sabato venne il maestro, se volete avere il piacere di venire a visitarci Allora lui ci ha presentato questa famosa pittura artistica Perciò desideriamo che l'aspettibile signore di Ragusa A noi ci fa molto piacere della vostra presenza e così vi faccio conoscere il maestro di presenza L'artista maestro, pittore con masso travesse Così io termino la mia discussione e la mia presentazione di fronte alla signora come il nome Maria Grazia Bocchieri Maria Grazia Bocchieri